Primo appuntamento del 2014 con il Giardino delle Idee, ospite graditissima alla professoressa Michela Marzano per presentare il suo libro L'amore è tutto, è tutto ciò che so dell'amore. Un libro che promette, che cosa promette? Non so se prometta di spiegare esattamente ciò che è l'amore. Diciamo che io quello che ho cercato di fare è scrivere un libro sull'amore esattamente come avrei voluto leggerlo io tanti anni fa. Per cui non è un libro di ricette, non è un libro di idealizzazione, è un libro che cerca di raccontare l'amore anche attraverso la mia storia. Per cui cerco attraverso questo libro e questa scrittura di trovare le parole giuste o le più giuste possibili per cercare di mettere a fuoco quel qualcosa che aspettiamo, talvolta sogniamo, tante volte perdiamo e per cercare di darci anche uno stimolo e la voglia di continuare ad amare nonostante tutto. Che cosa non è l'amore professoressa? L'amore non è tante cose, l'amore non è la semplice passione, l'amore non è l'innamoramento, l'amore non è un ideale, l'amore non è il principe azzurro, la principessa rosa. L'amore non è quel qualcosa che ci dovrebbe costringere ad essere altro rispetto a ciò che noi siamo. L'amore in fondo rispetto a tutto ciò che non è per dire semplicemente ciò che potrebbe essere e quel sentimento di libertà che ci permette di essere noi stessi. Quindi è quel qualcosa che ci permette di entrare in contatto con l'autenticità del nostro essere. Grazie.